Una storiella racconta di un prete che entra in un'aula di catechismo e dice ai bambini oggi vi spiegherò il mistero della Trinità. Una bambina alza la mano e chiede che cosa significa la parola mistero e il prete prontamente risponde mistero è qualcosa che non si può spiegare. Oggi la Chiesa celebra la solennità della Santissima Trinità, celebra il mistero di Dio e spesso ci capita di riempire quest'ultimo di tante parole, ci capita di dare interpretazioni, di dichiarare delle verità. Forse dovremmo rimanere un po' più in silenzio e contemplare lasciando spazio di un Dio che si è rivelato e si rivela nei modi e nei tempi più inspiegabili. Ma nel DNA dell'uomo c'è il desiderio di ricerca, l'uomo chiede, domanda, vuole sapere. Di fronte al mistero di Dio è come stare davanti ad una porta chiusa a chiave dove non sappiamo cosa ci sia dall'altra parte e allora si prova a sbirciare, sbirciare dal buco della serratura per intravedere qualcosa, per cogliere qualche aspetto, qualche notizia, qualche indizio. Il Vangelo di questa domenica ci dà la possibilità per provare a sbirciare. Gesù parla con Nicodemo, un dottore della legge, un fariseo, un membro del sinedrio, ma soprattutto un uomo in ricerca, una persona che si pone delle domande sulla fede, sul senso della vita, sul mistero di Dio. E Gesù in questo colloquio crea le condizioni per dare una sbirciata dietro la porta. Dio ha tanto amato il mondo, dice Gesù, da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Allora guardando attraverso Gesù possiamo vedere dentro al mistero di Dio. Gesù svela una delle parole più interessanti della rivelazione cristiana, la parola relazione, non solo quella tra lui e il Padre nello Spirito, ma anche quella di Dio con il mondo. Gesù era un uomo di relazione e proprio attraverso il suo relazionarsi ha mostrato quell'amore smisurato che oggi il Vangelo ci annuncia. Viene spontaneo pensare agli incontri fatti da Gesù, dalla Zaccheo alla Samaritana, dalla donna emoroissa Marta e Maria all'adultera che salva dalla lapidazione. Ogni incontro è descritto come l'incontro, ovvero lo spazio dove il mistero di Dio si schiude, dove l'amore si fa parola, gesto, sguardo e la vita viene trasformata. Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. E allora Gesù fa emergere nella relazione quel pezzettino di divino che c'è in ciascuno, perché ciascuno ritrovi se stesso il proprio bene, la sua felicità. Sarebbe bello riuscire ad avere sempre questa consapevolezza tutte le volte che facciamo esperienza di relazione. Anche davanti ad una persona ci troviamo di fronte a un mistero, come davanti ad una porta chiusa. Ma se provassimo a guardare dal foro della serratura, e cioè con uno sguardo evangelico, attraverso lo sguardo di Gesù, potremo sperimentare relazioni autentiche, potremo vedere vite trasformarsi. Potremmo riconoscere in quel mistero che abbiamo davanti un po' del mistero di Dio che continuamente si dona e si rivela. Allora la festa della Trinità è sì la festa di Dio, ma è anche un po' la festa dell'uomo. È la festa di ciascuno di noi, perché anche noi siamo già parte della vita divina. Quest'oggi Gesù ci dice che non siamo perduti, che siamo destinati ad una relazione con Dio che non sarà discostante, fragile, superficiale come spesso sono le relazioni umane, ma sarà una relazione di comunione, e cioè una cosa sola. Allora la porta chiusa a chiave sarà davvero spalancata. Buona domenica e che il Signore ci tenga per mano.